Schianto mortale a Cavaglià la scorsa notte, due giovani di 24 e 25 anni sono morti in un incidente a Roppolo. Sabato 29 dicembre si svolgeranno le primarie del PD per scegliere i candidati al Parlamento alle politiche 2013, in corsa anche l'ex sindaco di Biella, Barazzotto. Saranno invece 5 i candidati biellesi alle primarie di Selsini, Secologia e Libertà, per scegliere i candidati parlamentari in Lizza, Roberto Pietrobon. Questa sera dalle 23.50 su Telebielle, Retebiella, ci sarà la diretta da Sordevolo per la Santa Messa di Natale. Angelico Biella, umiliata da Enel Brindisi, il pubblico per protesta abbandona la curva. Buongiorno a tutti dalla redazione di Biella, in apertura la cronaca. Due giovani di Cavaglià di 24 e 25 anni sono morti la scorsa notte in uno schianto a Roppolo. Sentiamo tutti i particolari da Elena Lovero. Due giovani di Cavaglià, Michele Palmentieri e Luigi Rosso di 24 e 25 anni, sono morti nella notte in un incidente avvenuto a Roppolo. I due amici avevano trascorso la serata insieme. Mentre tornavano a casa, a bordo delle rispettive auto, la tragedia. Michele, a bordo di una Volkswagen e Luigi, alla guida di una Peugeot, hanno imboccato la provinciale 228, diretti a Cavaglià. Lo schianto è avvenuto a circa 40 metri dalla rotonda di Roppolo. Non si sa ancora la dinamica dell'incidente, perché sul caso stanno indagando i carabinieri di Cavaglià. Per ora vi sono solo delle ipotesi, o una distrazione di uno dei due ragazzi, o un colpo di sonno o l'asfalto agghiacciato. A quanto pare, uno dei due giovani ha tamponato violentemente l'altro. Lo scontro ha proiettato in aria le due auto, che sono finite nel dirupo sottostante. La Peugeot si è fermata a pochi metri dalla strada, la Golf più in basso. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle tre e mezza, data da un uomo di Roppolo, residente nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Quando hanno raggiunto però le auto, purtroppo, i due ragazzi erano già morti. Ancora cronaca, ancora nessuna pista sull'indagine che i carabinieri stanno conducendo per trovare il rapinatore che il sabato scorso, poco prima della chiusura, ha fatto inruzione nella farmacia Pozzi di Tollegno e si è impadronito di un magro bottino di circa 400 euro. Molti testimoni che hanno fornito un preciso identikit alle forze dell'ordine, giunte poco dopo su luoghi e ci sono fatte consegnare le riprese realizzate da una telecamera al circuito chiuso. E ora la politica, centro-sinistra in fibrillazione. Saranno sei candidati alle primarie del PD del 29 dicembre prossimo. Ad annunciarlo il segretario provinciale Doriano Raise, tre maschi e tre femmine. Sentiamo. Conferenza stampa del Partito Democratico, in vista proprio delle primarie per scegli candidati parlamentari alle elezioni politiche del 2013. Prima resisteranno il 29 dicembre. Con noi Doriano Raise, segretario provinciale del PD. Ecco, quanti sono, quali sono i candidati e quali sono le regole, insomma? Sabato prossimo ci saranno quindi le elezioni, sabato 29 dicembre ci saranno le elezioni per le primarie dei candidati al Parlamento. Le votazioni saranno possibili dalle 8 del mattino alle 21. I nostri candidati che presentiamo sono sei, nel rispetto di genere sono tre maschi e tre femmine. Allora, sono Barazzotto, Stroscio e Grosso. Poi abbiamo le tre candidate femmine che sono la Favero, Costanza Mottino e poi abbiamo la Mantillaro. Quindi oggi l'assemblea provinciale ha approvato formalmente e sostanzialmente queste candidature che saranno le candidature che si presenteranno alle primarie a cui potranno partecipare tutti quelli che hanno votato alle primarie per Bersani e Renzi e anche gli iscritti in regola nel 2011 e in regola col 2012. Queste sono sostanzialmente le poche regole, ma molto chiare, per partecipare alle primarie. Aggiungerei che questa è una grande operazione di democrazia che solo il Partito Democratico ha fatto in Italia e che faremo anche nel nostro biellese e credo che questo sia un elemento politico sostanziale e che anche gli elettori percepiscono il valore. Un'ultima domanda al segretario d'obbligo. Il suo nome era circolato come possibile papabile e poi è stato ritirato. Un suo commento. Sostanzialmente diciamo che sì, nell'arco dei papabili ci poteva stare anche il mio, essendo segretario, ma diciamo che alla fine del percorso di individuazione dei candidati questi sono i candidati per cui evidentemente su questo dovranno esprimersi gli elettori. Io altri commenti in merito non ne ho da fare, semplicemente che come segretario cercherò di lavorare nel corso di questi pochi giorni e me che abbiamo affinché il maggior numero di persone vada a votare. Vorrei fare anche rilevare che questa occasione di poter eleggere un nostro rappresentante del Partito Democratico dopo tanti anni, nonostante il Porcellum, abbiamo la possibilità quindi di poter eleggere un candidato del PD. E sarà sfida aperta tra Stroscio e Barazzotto, il primo blindato del partito, l'altro invece ex sindaco di Biella dalla Società Civile. Dopo aver ascoltato nei giorni scorsi Andrea Stroscio ora l'intervista a Vittorio Barazzotto. Argomento di oggi, di questi giorni, le primarie del Partito Democratico per scegliere i candidati parlamentari, elezioni politiche del 2013, primarie si terranno sabato 29 dicembre, potranno votare chiunque abbia votato per le primarie nazionali, seggi saranno gli stessi. Momenti di fibrillazione, come avete sentito dal servizio precedente, sei candidati ufficiali, l'attenzione inevitabilmente si sposa su due di questi, Andrea Stroscio, in qualche modo appoggiato dal partito, e Vittorio Barazzotto, ex sindaco di Biella, esponente di spicco del centro-sinistra da anni, e in qualche modo battitore libro, pur essendo sempre stato molto fedele alle linee del partito. Barazzotto, come vede questa sfida? Tanto è la prima volta che in Italia si fanno le primarie e rispetto ad una legge pessima che non consente di scegliere i candidati, credo che il Partito Democratico, questo debba essere riconosciuto, ha fatto un enorme sforzo per mettere in campo una macchina nel giro di pochi giorni. I giorni sono pochissimi, il tempo è pochissimo, è chiaro che anche il campo degli elettori è ristretto agli elettori che hanno votato per le primarie e agli iscritti del partito, e c'è un grandissimo sforzo dei militanti del partito che, anziché andare in vacanza, si adoperanno affinché queste primarie. È un primo passo, sicuramente importante, perché consente ai biellesi di scegliere chi sarà il candidato, per la prima volta potranno scegliere quale sarà il candidato alla Camera. Ecco appunto, sulla questione, adesso non è che vogliamo focalizzare l'attenzione sullo scontro, che non è uno scontro, però comunque c'è però questa indicazione di partito verso Andrea Stroscio. Lei come vede la questione? Insomma, lei che milita da anni comunque in quell'ambiente. Ma sì, così sembra, ma è chiaro che Andrea Stroscio, che è un'ottima persona, ha sempre, voglio dire, nato e cresciuto politicamente nel partito, che rimane a mio avviso lo strumento fondamentale per poter esercitare attività politica in uno Stato democratico, van bene i movimenti, van bene le liste civiche, io sono stato e sono sostenitore di tutto questo, però il partito rimane il mezzo principale. Dopodiché non bisogna essere altrettanto, voglio dire, bisogna sempre poter ragionare con la propria testa. Io mi sono battuto tantissimo, perché il partito democratico diventasse un qualcosa di realizzato. Spero di poterlo veramente vedere come opera compiuta, perché rappresenta varie anime e quindi ci sono varie componenti. Ecco, Barazzotto alla Camera o al Senato, adesso che bisogna vedere appunto dove si collegherà, cosa potrebbe fare per il Bielese? Guardi, il Bielese attraversa, l'abbiamo detto tante volte in queste settimane, e tutti credo che ormai siamo, come vediamo, che il male oggi del Bielese è tanto vittima come tanti altri luoghi, come tante altre città di una crisi europea e internazionale. Noi abbiamo anche una situazione di isolamento geografico, ma ultimamente mi pare anche mentale. Abbiamo tanti capitali ancora, ci sono ancora tante risorse e ci sono tante intelligenze in tutti i settori. Allora credo che dobbiamo cercare di ritrovare un po' di spinta di orgoglio. E parliamo sempre di politica. Sinistra e Corgi e Libertà, il partito guidato da Nichi Vendola andrà a primare per scegliere i candidati al Parlamento domenica 30 dicembre. Le consultazioni, a differenza di quelle del PD, saranno su base collegiale. Nel Bielese, la Camera dei candidati sono Roberto Pietro Bong, capogruppo di Sela, Palazzo Roppa e Stefania Poppa. Al Senato, Anna Maria Pazzara, Antonio Filoni e Angelo Sacco. Potranno votare iscritti all'albo delle primarie di Taglia Bene, Comune e Tesserati a SEL. I candidati bielesi fanno parte del collegio Piemonte 2, che raggruppa le province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. Sempre politica, ma ora nel centrodestra. Nel PD bielese, infatti, è tempo di bilancio. Gli ex-AN, capitanati da Del Mastro, sono in procinto di aderire al movimento di Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Il servizio. Se il centrosinistra bielese si sta preparando le primarie per scegliere i candidati al Parlamento e le politiche 2013, il centrodestra, il PDL nello specifico, sta tentando di serrare le fila per cercare una collocazione più precisa. Pezzi dal 90 come Andrea Del Mastro, Livia Caldese e Marzio Livero sono sul punto di abbandonare il partito di Berlusconi e approdare a quello di Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Il condizionale è tuttavia d'obbligo, visto che a livello nazionale le cose non sono ancora chiare. Per quanto riguarda Lorenzo Leardi, segretario provinciale del PDL e sostenitore della prima ora di Guido Crosetto, non ha ancora sciolto le riserve. Insomma, nell'aria, nel biellese, vi è un sentimento di cambiamento che sicuramente potrà cambiare anche la cartina politica locale. L'economia sarà la più grande cassa di risparmio del Piemonte, risultato dell'acquisto da parte della cassa di risparmio di asti di Viverbanca. Il nuovo gruppo si presenterà sul mercato con 252 sportelli distribuiti in tutto il nord-ovest con oltre 600 milioni di patrimonio netto e quasi 1.800 dipendenti. L'operazione avviata nella scorsa primavera ha ottenuto tutti il via libera da parte dell'autorità di controllo. Intanto il CTA, preseduto da Aldo Pia, ha chiesto la convocazione per giovedì pomeriggio dell'Assemblea dei Soci. All'ordine del giorno, l'aumento di capitale per 70 milioni. Cambiamo decisamente argomento. Iniziamo a parlare dell'atmosfera natalizia. E anche in questo Natale la tradizione vince sulla tavola dei biellesi. L'inchiesta realizzata dalla nostra Elena. Lo vero. Natale 2012. Nonostante la crisi, molti biellesi festeggeranno in famiglia il Natale. Ma che cosa prepareranno per il classico pranzo? Scopriamolo nella nostra inchiesta. Che cosa mangerete per il pranzo di Natale quest'anno? Bisogna chiederlo a mia moglie, bisogna vedere che cosa fa. Non ci siamo, siamo invitati. Ma sa già se c'è un piatto tipico dove andate a mangiare, tipo gli ognolotti fatti in casa. Non lo sappiamo, è tutta sorpresa. Come facciamo a chiedere? Non possiamo chiedere, mangiamo fuori. A Natale noi mangieremo tacchino, ripieno come Perù. Come Perù, sì. Facciamo un po' di cena di Perù, la tradizione nostra. È il 24 però, 24 sera. Anche panettone. Allora, penso, ma dall'inizio allunque, di primo gli ognolotti. Fatti in casa? No. Acquistati in gastronomia. Va bene. E di secondo ho lo zampone, ho dei cotechini con il purè o con le lenticchie. Quindi un pranzo molto tradizionale. Sì, 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 tradizionale. Ah beh, classico, lasagne, antipasti, cotechino con le lenticchie, o zampone, frutta secca, panettone. Il classico in famiglia, in 22. Il 22? No, siamo in 22 a pranzo. In 22 a pranzo. E festeggerete anche la vigilia? Vigilia no, vado a messa, di mezzanotte, perché qua non si usa le vigilia. Nel mio paese che sono calabresi, sì. Invece Natale no, no, con i figli, con suoceri, con i cognati. Un bel pranzo di Natale. Beh, gli agnolotti sì, perché sono di prammatica. Prammatica, sì, se lo segni. E poi panettone o pandoro? Vabbè, panettone, sì, panettone o cervo o motta. Da con 12 anni Gino Vercellotti e Gianpaolo Gibello stanno realizzando il presepio meccanico di frazione Nelva a Callabiana. Stanno realizzando perché anno dopo anno giungono, statuina, hanno superato le 200 unità, delle quali almeno la metà sono animati in movimento. Si tratta di un'opera che occupa una superficie di 80 metri quadri. Quest'anno sarà possibile ammirare l'aggiunta delle nuove statuine. Parliamo ora di Meto, Natale sulla neve. Vediamo con Marco Fulcheris le previsioni meteo. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e appassionati di sci e buone feste natalizie. Vediamo com'è la situazione delle piste. In questi giorni vi terremo aggiornati sul tempo e anche appunto sulle condizioni della neve. Ma vediamo subito com'è la situazione. C'è per la giornata di Natale al mattino un cielo abbastanza sereno con velature, ma un peggioramento nel pomeriggio fino a nevicate nella notte. Solo 5-6 cm di neve, ma ci sarà un po' di neve nella nottata. Poi per la giornata di Santo Stefano mercoledì il tempo sarà abbastanza buono con solo delle velature. Ma vediamo com'è la situazione della neve nelle stazioni sciistiche più vicino a noi. A D'Antagnon, in Valle d'Aias, abbiamo 35-55 cm. A Brusson, 0 in paese e 50-80 nella parte sciistica. A Champoulou, 35-1,40 m. Nella giornata di martedì qui le temperature oscilleranno tra i meno 9 e 1 grado. In Val Tournance, a Cervigna, c'è un buon manto nevoso, 1,05 m in paese e 2,50 m a Platò Rosà. Le temperature oscilleranno tra i meno 12 e i 3 gradi. In Valle del Lis, invece, avremo a Gressonei e Saint-Jean 20 cm nella parte bassa degli impianti, un metro alla West Matten, con Gressonei e la Trinité 50 cm nella parte bassa, un metro e 60 sia alla Betafork che a Punta Iolanda. Qui le temperature variano tra i meno 10 e i 3 gradi. Per la giornata di mercoledì, come abbiamo detto, ci sarà un tempo buono fino alla sera con temperature variabili. Per la Valle d'Aias abbiamo da meno 12 a 0 gradi, mentre invece a Breu e Cervigna avremo da meno 16 a meno 6 gradi e nella Valle del Lis avremo temperature che variano da meno 12 a 2 gradi. Per la giornata di giovedì, il 27, invece, è prevista tutta una giornata di tempo molto nuvoloso coperto, con nevicate per tutto il giorno. Poi per gli appassionati di sci, dal 28 fino a Capodanno, sempre tempo buono, con giornate abbastanza soleggiate e solo qualche venatura. Bene, questo è tutto, appuntamento per il weekend. E ora lo sport, basket, partita a senso unico a Biella. Brindisi ha letteralmente asfaltato e umiliato Angelico Palacanestro Biella. I tifosi, per protesta, hanno abbandonato la curva. Sentiamo l'inviato, Andrea Rossetti. Chi sperava che l'Angelico trovasse i due punti sotto l'albero di Natale alla vigilia appunto del Natale è rimasto deluso, è rimasto parecchio deluso. Il rosso-blu sono incappati in una delle più grosse sconfitte forse casalinghe della propria storia. Hanno perso di 35 addirittura, 94-59 contro l'Enel Brindisi, una partita che di fatto hanno giocato per il primo minuto, minuto e mezzo. Poi sono andati letteralmente in bambola. Brindisi ha fatto praticamente quello che voleva, ha vinto sul velluto. Per quanto riguarda la partita c'è ben poco da dire. Brindisi ha progressivamente allungato fino a questo finale nel quale addirittura c'è stato un contropiede 3 contro 0 da parte della compagine pugliese. Degno di note invece l'atteggiamento del pubblico biellese che dopo aver comunque sostenuto nel primo tempo la squadra e anche nel terzo quarto, quando è sembrato che ci fosse un leggero tentativo di rimonta, dicevamo i tifosi hanno inscenato una protesta anche piuttosto dura, hanno abbandonato la curva, sono saliti tutti nella parte alta della curva barlera, hanno iniziato a criticare, a fischiare e quant'altro, la squadra, la dirigenza e lo staff tecnico. Un atteggiamento che si può definire per certi versi comprensibile, perché lo spettacolo abbiamo detto è stato decisamente brutto, decisamente penoso, però allo stesso tempo si può anche definire inspiegabile, nel senso abbiamo visto diversi componenti della curva che sulle magliette, sul retro delle magliette ricavano la scritta sempre e comunque, per cui riteniamo che sempre e comunque voglia dire appunto sempre e comunque sostenere la squadra in ogni momento e questo oggi non è stato fatto. La misura è colma, siamo d'accordo, quest'anno l'Angelico sta rischiando davvero la retrocessione, sicuramente l'avvio di stagione più brutto nei 20 anni di storia di Palacanestro Biella, nei quasi 20 anni di storia di Palacanestro Biella e sicuramente nei 12 anni di Serie A, però l'ideale sarebbe comunque restare vicino alla squadra, la crisi c'è a tutti i livelli, si sente, la sentono i tifosi sicuramente, che fanno uno sforzo per venire qua all'Auretana Forum, ma allo stesso tempo la sente la società e quindi quello che fa crediamo che lo stia facendo, quello che si può fare crediamo lo stia facendo. Anche i tifosi è vero, però un pochettino più vicino alla squadra potrebbero stare. Adesso al termine della partita, oltre alla pioggia di fischi sulla squadra, c'è stato anche un battibecco tra alcuni componenti della curva e dei membri della società di Via 20 Settembre. In questa giornata decisamente negativa per Palacanestro Biella, l'unica nota, se così vogliamo chiamarla, positiva, sono le sconfitte di Montegranaro, Avellino e Pesaro, che quindi lasciano la coda della classifica inalterata. Biella non è ultima, quindi non sarebbe ad oggi retrocessa. C'è ancora tutto il tempo di migliorare, di crescere e di raggiungere questa salvezza. Dopotutto sono passate 12 partite, ne mancano altre 18. Bisogna svegliarsi, bisogna darsi una mossa, bisogna svegliarsi a tutti i livelli. Tifosi, squadra, società, staff tecnico, tutti. Domenica prossima, sempre qua all'Auretana Forum, arriverà a Milano. Una squadra fortissima, però fino ad ora in crisi. Alla vigilia di questa partita era pari punti con Brindisi. Speriamo che l'esito non sia lo stesso. Intanto auguriamo a tutti i nostri ascoltatori un buon Natale. E ora parliamo di Natale. Appunto la nostra regia mobile sarà sordevole questa sera per seguire in diretta televisiva la celebrazione della Santa Messa di Natale. A partire dalle 23.50 su Retevielle e Telebiella, i nostri telespettatori potranno dunque seguire la Santa Messa che sarà celebrata da padre Luciano Acquato. Bene, con questo è tutto. Io ringrazio per la cortesa attenzione e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.